Musica Poco tempo fa si è battuto su tutto il Veneto una grande alluvione che ha sconvolto famiglie e anche i nostri compagni di scuola. Intendiamo aiutarli e per questo, come rete degli studenti medi, abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi che avverrà all'interno di ogni scuola. In ogni scuola saranno allestiti i banchetti, saranno convocati i comitati studenteschi, saranno fatti i semiali istituti sul tema. Musica Abbiamo deciso di devolvere i fondi raccolti in conti istituzionali e per questo abbiamo chiesto al primo cittadino, Fabio Zanonato, di spiegarci la situazione nel video che state vedendo. Voglio fare un appello a tutti i giovani, in particolare agli studenti, perché in questa situazione di grande difficoltà della nostra regione per l'alluvione che ha colpito migliaia e migliaia di famiglie, perché in questa situazione si mobilitano e diano una mano. Si può dare una mano in tanti modi, contribuendo praticamente, ed è questo che è già avvenuto, anche raccogliendo fondi. Ecco, vi chiediamo di raccogliere fondi. Non si tratta soltanto di avere una cifra importante, ma anche di dimostrare che siamo un territorio molto solidale, sia con chi ha dei disastri, per esempio un terremoto, un maremoto, ed è lontano da noi, sia per chi ha lo stesso problema ed è invece vicino. Noi siamo una realtà che non accetta il forza bacchiglione o il forza etica, siamo una realtà che invece vive di solidarietà e quando ci sono problemi si impegna. Quindi, ragazzi, impegnatevi, raccogliete fondi, perché è anche un modo per crescere culturalmente e politicamente. Ci auguriamo che parteciperete a questa campagna e che vorrete aiutare insieme a noi tutte le famiglie che sono state colpite dall'alluvione. Grazie per la visione!